buongiorno a tutti io sono giorgio doria e della direzione pianificazione territoriale e dal 2011 mi interesso del paesaggio in particolar modo delle attività dell'osservatorio regionale da un anno e mezzo insieme alla collega elena finco e insieme componiamo la facciamo parte a segreteria tecnico scientifica dell'osservatorio con la nostra relazione di oggi vi forniremo alcune informazioni carattere generale sugli osservatori del paesaggio e poi più nel dettaglio altre informazioni sulla struttura organizzativa che ci siamo dati come regione e le principali attività svolte in questi anni nel veneto dall'osservatorio regionale dalla rete regionale degli osservatori locali ma prima di iniziare io vorrei la relazione vorrei ringraziare la professoressa reo e professor magni dello luav per l'impegno che hanno messo nell'organizzare al meglio questo corso e ringraziare anche il dottor alberto bonora che sta seguendo tutti gli aspetti tecnici e organizzativi di questo corso grazie ancora ritengo utile partire nel descrivere attività di un osservatorio dalla definizione di osservatorio del paesaggio e ciò che rappresenta si tratta come potete vedere la slide di uno strumento utile per l'attuazione della convenzione europea del paesaggio luogo nel quale fare sintesi tra interessi culture e sensibilità differenti e nel quale trovare valori condivisi sottolineo condivisi e quindi uno strumento utile per il dialogo tra istituzioni associazioni e cittadini ma che cos'è la convenzione europea del paesaggio se ne è parlato anche prima ne ha parlato la professoressa marson e anche il collega ballin come molti di voi sanno si tratta di un documento adottato e sottoscritto nel 2000 dagli stati membri del consiglio d'europa e ratificato dall'italia con una legge del 2006 quindi entrata a far parte dell'ordinamento dello stato italiano il primo elemento di novità che caratterizza la convenzione oltre alla definizione univoca e condivisa di paesaggio è il campo di applicazione che è esteso a tutto il territorio i spazi naturali rurali urbani e perurbani i territori degradati e quelli di grande qualità le zone di eccezionale valore e quelle della vita quotidiana quindi territorio è tutto questa non è una novità di poco conto che modifica profondamente l'idea stessa il concetto di paesaggio che avevamo ricordiamo che la legge 1497 del 39 anche citata precedentemente si interessava della protezione bellezze naturali di cose immobili ville giardini e così via e di interesse storico artistico di eccezionale valore con la convenzione europea del paesaggio cambia il concetto stesso di paesaggio come abbiamo visto la descritto e la professoressa marson non è che l'idea del paesaggio è nata con la convenzione però la sancita la resa come dire la fatta entrare nell'ordinamento e quindi è un passaggio decisivo nell'applicazione di questo principio ed ancora il paesaggio svolge funzioni carattere generale culturale ecologico ambientale sociale economico e contribuisce al benessere di degli esseri umani e il consolidamento dell'identità europea possiamo quindi sintetizzare che la convenzione che per la convenzione europea del paesaggio paesaggio in ogni luogo è un elemento importante benessere delle popolazioni ebbene richiamare da subito anche la definizione che dà di paesaggio il codice i beni culturali del paesaggio del 2004 che lo indica come territorio espressivo di identità in cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali umani e delle loro interrelazioni è proprio nel codice urbani del 2004 che troviamo per la prima volta indicati gli osservatori ciò non avveniva nella convenzione non è avvenuto nella convenzione nella convenzione non troviamo traccia degli osservatori mentre la troviamo traccia nel documento che i ministri della della comunità europea hanno redatto hanno sottoscritto nel 2008 e che indicava la possibilità di istituire osservatori centri o istituti quindi quel che conta è la sostanza al di là della denominazione che viene data a livello locale regionale nazionale internazionale è il primo documento dove troviamo citato il livello locale perché ricordiamo che nel codice si parla di dell'osservatorio nazionale dell'osservatorio regionale mentre il livello locale non viene preso in considerazione trattando un attimo la e descrivendo un po le l'attività dell'osservatorio nazionale allora è stato istituito formalmente nel 2006 la nomina è avvenuta dei componenti avvenuto due anni dopo nel 2008 ma per lunghi anni non sono state svolte attività rilevanti in particolar modo nei confronti degli osservatori regionali che nel frattempo erano stati istituiti infatti la prima riunione dell'osservatorio nazionale con gli osservatori regionali e quelli locali sottolineo locali e l'invito è stato esteso ai locali perché in questo modo non si escludevano gli osservatori locali piemontesi nati spontaneamente e quindi non inquadrabili all'interno della rigida norma del codice e tuttavia molto importanti ai fini dell'interventi e della sensibilizzazione nel territorio quindi sono stati sono stati invitati a partecipare sia i regionali e i locali e la riunione si è tenuta a fine del 2015 seguita da un paio di altre riunioni nei mesi successivi e poi non abbiamo più avuto notizie ma torniamo per un attimo alla definizione del paese di paesaggio ed in particolare del campo di applicazione esteso a tutto il territorio abbiamo gran paesaggi di grande valore in questo caso sono vette dolomitiche vado velocemente solo per darvi un'idea ovviamente ci sono i paesaggi delle nostre urbani delle nostre città d'arte ci sono i paesaggi coltivati dall'uomo quindi abbiamo come potete vedere a modo di esempio un paesaggio coltivato a vite ma ci sono anche i paesaggi urbani che hanno bisogno necessità di una riqualificazione e ancora ci sono paesaggi industriali e poi i paesaggi della vita quotidiana del lavoro delle aree artigianali e commerciali senza paesaggi senza qualità questi esempi giusto per sottolineare il fatto che tutti di tutti i paesaggi noi dobbiamo farci carico intervenendo poi ovviamente di volta in volta nel modo più opportuno in rapporto ai valori valori o all'assenza di valori che questi esprimono torniamo per un attimo all'osservatorio regionale del veneto allora è nato da un percorso originale sperimentale che ha visto nascere prima gli osservatori locali nel 2011 l'alta marca e poi il regionale l'anno successivo l'istituzione dell'osservatorio regionale avviene con la legge 10 del 2011 la legge di modifica del legge sul governo del territorio la 11 del 2004 introducendo un nuovo titolo dedicato al paesaggio che oltre a disciplinare le competenze della regione e di tutti gli altri enti ha anche istituito l'osservatorio regionale per il paesaggio con i successivi provvedimenti di giunta a partire dal 2012 è stata disciplinata la composizione il funzionamento e le attività dell'osservatorio regionale riguardo alle attività ricordiamo che a novembre del 2011 a verona erano stati già presentati dieci punti per il manifesto dell'osservatorio e come si è detto quel giorno è stato formalmente istituito il primo osservatorio locale sperimentale attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la regione e il comune di pieve di soligo che continua a essere l'ente capofila dell'osservatorio locale qui possiamo vedere il manifesto che è stato presentato quel giorno e che riassume attraverso delle parole chiave evidenziate tutte le attività dell'osservatorio come potete vedere ascolto condivisione conoscenza formazione quella che stiamo facendo oggi e così via fino alla partecipazione nel 2012 ha preso avvio la collaborazione importantissima con tutte le università del veneto quindi ca foscari e uova di venezia padova e verona e altrettanto importante con il ministero della cultura attraverso l'inserimento di una sua rappresentanza in il comitato scientifico dell'osservatorio nello stesso anno 2012 sono stati attivati ulteriori cinque osservatori locali sperimentali che aggiunti a quello dell'alta marca che era stato attivato l'anno precedente porta a sé il totale degli osservatori locali sperimentali che poi confluiranno nella rete regionale l'anno successivo nel 2013 questa è la situazione attuale della rete come potete vedere i 13 osservatori locali sono distribuiti su tutto il territorio regionale quindi interessano ambiti paesaggistici diversi va subito precisato che ahimè soltanto una metà di questi sono attivi e gli altri dopo l'adesione dopo un primo le prime attività svolte non hanno più dato segni di vita noi ci auguriamo ovviamente stiamo lavorando perché queste anche queste realtà locali si riattivino nel più breve tempo possibile qui vi presentiamo quella che è stata a tutt'oggi la più importante esperienza di attività di un osservatorio locale e che si è svolta nel 2012 quindi nel periodo compreso tra l'istituzione del dell'osservatorio regionale e la sua effettiva attivazione quindi tra giugno 2011 e giugno del 2012 questa attività sperimentale è stata resa possibile grazie alla l'impegno e collaborazione della comunità montana della del brenta e delle due università di padova e uova di venezia giusto un'immagine perché per chi non conosce canale di brenta per rendersi conto della della realtà in cui ci troviamo è questa stretta valle percorsa incisa dal brenta caratterizzata da versanti con numerosi terrazzamenti a secco in origine coltivati a tabacco coltivazione che ormai è stata abbandonata come si diceva appunto nel 2011 e sono partite le attività previste dal non ancora osservatorio perché in realtà stavamo sperimentando le attività ma l'osservatorio formalmente non c'era ancora questa è sono dei momenti della distribuzione dei questionari per sensibilizzare la popolazione come potete vedere sono stati scelti anche dei modi un po originali attraverso un camper che ha girato i mercati settimanali delle frazioni e ha partecipato ai principali eventi pubblici della della valle l'esito poi dei questionari dei 916 questionari raccolti è stato presentato presentato attraverso un pannello riepilogativo nella mostra finale che ha presentato gli esiti di tutta la sperimentazione come potete vedere 916 questionari raccolti non sono pochi una realtà che arriva a circa 5 mila abitanti poi altra attività importante che ha avuto dei riscontri positivi sono stati dei focus group a cui hanno partecipato 52 persone per quattro incontri serali e che hanno poi individuato le sedici azioni prioritarie per la valle si trattava di rappresentanti di persone rappresentanti di associazioni categorie economiche e anche amministrazioni locali in quel momento non c'era non era ancora avvenuta la fusione tra i comuni attualmente il comune unico è di quello di valbrenta mentre in quel momento erano ancora cinque comuni distinti poi abbiamo il corso di alta formazione il corso che stiamo tenendo che abbiamo avviato qui oggi è stato il primo corso che è stato avviato con dallo uav con la partecipazione di 35 corsisti 60 ore di lavoro di lavoro di attività suddivise in lezioni laboratori ed escursioni quindi molto impegnativo se pensiamo che il corso che abbiamo avviato oggi è di 25 ore e che si è concluso con la presentazione di 35 proposte progettuali questo significa che ogni partecipante al corso ha elaborato una proposta progettuale pensata per la valle poi con le scuole le attività con le scuole scusate ancora indietro perfetto ancora ancora stai andando avanti intanto ve le descrivo e poi cerchiamo di ritornare alla slide delle scuole allora l'attività con le scuole si sono svolte coinvolgendo scusate non riesce a tornare indietro il bello della diretta ancora 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 ecco qua perfetto grazie mille scusate non importa lascia allora le attività con le scuole hanno coinvolto tanta classi di otto istituti scolastici coinvolgendo 1300 bambini e ragazzi e ricordiamo ancora e sottolineo che si tratta di una realtà molto piccola insomma modesta di 5000 abitanti circa poi c'è stato un concorso fotografico qui il momento della premiazione non sto a soffermarmi poi questa installazione paesaggistica chiamata fazzoletti luce sono dei led luminosi alimentati da pannelli fotovoltaici e che hanno partecipato alla campagna del programma radiofonico caterpillar mi illumino di meno c'è stata anche l'intervista il sindaco quindi ha avuto una certa risonanza a livello nazionale il sito web 389 visitatori totali e le visite sono passate da 537 di gennaio 2011 come potete vedere la slide a 3270 a maggio del 2012 a conclusione delle attività sperimentali poi c'è stato l'evento finale l'evento finale il 25 26 maggio del 2012 sono state realizzate diverse iniziative la prima è le scuole abbracciano la valle poi la staffetta luoghi di luce lungo il Brenta e poi ancora il convegno il paesaggio è una parte di te con l'iniziativa la scuola le scuole abbracciano la valle si è formato una catena umana di oltre mille ragazzi e bambini che hanno idealmente abbracciato la valle da un versante all'altro bloccando come potete vedere anche il traffico sulla sulla statale e qui siamo sul ponte che collega le due frazioni del del comune sul Brenta e poi c'è stato il lancio di questi palloncini colorati mi dicono mi hanno precisato rigorosamente biodegradabili a cui era appeso un messaggio un così un desiderio di codi da parte di questi ragazzi come avrebbero voluto la loro valle quindi un pensiero sul paesaggio un momento dell'inaugurazione della mostra vedete alcuni dei pannelli che sono stati realizzati e due delle pubblicazioni che hanno concluso l'attività e che riassumono un po' tutte le attività svolte non ultimo il premio che c'è stato assegnato dal ministero della cultura una menzione speciale per l'azione svolta in attuazione a convenzione europea del passaggio proprio con questo progetto realizzato canale di Brenta quindi sulla base di queste attività sperimentali svolte al canale e quelle avviate poi anche nel 2011 in alta marca abbiamo deciso di estendere di ampliare le attività sperimentali coinvolgendo anche altri osservatori e queste sono le principali tappe quindi riassumo nel 2011 l'istituzione dell'osservatorio nel 2011 sempre l'avvio delle attività sperimentali nel canale i Brenta poi a novembre 2011 l'attivazione all'osservatorio locale dell'alta marca nel 2012 i cinque ulteriori osservatori l'attivazione scusate l'attivazione dell'osservatorio regionale e poi anche il mese i mesi successivi l'attivazione degli altri cinque osservatori locali sperimentali e poi nel 2013 l'istituzione della rete regionale che ha concluso le attività sperimentali prima di passare alla descrizione delle attività vorrei ricordarvi che l'articolo 6 della convenzione europea del paesaggio cita tra le attività da svolgere la formazione educazione di specialisti e oltre a prevedere anche altri tipi di informazione insegnamenti scolastici e universitari perché ho citato la convenzione europea l'articolo 6 perché nel decidere quale attività svolgere da quali attività iniziare le funzioni assegnate all'osservatorio regionale è stato deciso di privilegiare la formazione e la partecipazione e la sensibilizzazione poi come vedremo in seguito sono anche molte altre le attività previste per un osservatorio da qualche parte dovevamo pur cominciare e abbiamo deciso di farlo da quello dove ci sentivamo più attrezzati e sicuri avendo alle spalle le quattro università del veneto che erano in grado di garantire un livello decisamente alto allora noi siamo già alla quinta edizione del corso di formazione per tecnici tecnici sia professionisti che tecnici della pubblica amministrazione e queste attività le abbiamo svolte in collaborazione con le federazioni regionali degli ingegneri degli architetti e pianificatori degli agronomi e forestali dei geologi tutte queste attività sono state svolte in stretta collaborazione con le università del veneto qui possiamo vedere possiamo vedere sono state elencate i momenti in cui sono stati realizzati e i temi sono stati realizzati sono tutte informazioni che trovate siete riusciti a reperire facilmente al nostro sito nel nostro portale quindi non sto a dilungarmi queste queste sono due delle pubblicazioni in queste pubblicazioni dove sono raccolte non solo le lezioni ma sono raccolti anche i lavori svolti durante i corsi da parte i partecipanti ci sono c'è una scheda per ognuno dei gruppi di lavoro che era composto da un ingegnere da un architetto pianificatore un agronomo forestale un geologo un tecnico pubblico amministrazione qualche gruppo fortunato aveva addirittura nel gruppo un funzionario della sovrintendenza e che abbiamo riunito insieme mi è stato assegnato un tema e hanno realizzato un progetto è stata un'esperienza apprezzata moltissimo dai dei partecipanti ecco in questi due volumi che potete scaricare anche questi dal nostro portale in formato pdf trovate appunto anche queste schede progettuali poi c'è la formazione insegnanti l'altro come dire settore che abbiamo privilegiato il rapporto con la scuola l'investimento che abbiamo voluto fare sui cittadini domani ecco il corso di formazione sono iniziati già nel 2011 a canale di brenta c'è stata prima esperienza poi si sono susseguiti nel corso degli anni successivi coinvolgendo gli osservatori locali e passaggio è stato qui vediamo una piattaforma dove sono raccolti tutti i lavori che sono stati svolti in quegli anni è un sito lo potete trovare collegandovi all'università di padova prego questi sono tre degli degli ambiti paesaggistici analizzati dagli insegnanti poi nel 2019 sono iniziati anche ulteriori corsi formazione sempre per docenti ricordiamo sempre che al corso di formazione per docente seguiva sempre un'attività in classe nell'anno successivo e i risultati venivano sono sempre stati poi presentati al termine dell'anno scolastico prego poi nel 2020 in occasione del dei vent'anni dalla sottoscrizione a convenzione europea del paesaggio è partito un progetto che ha riscosso molto successo possiamo dirlo inventiamo il paesaggio realizzato dall'università di padova e insieme all'associazione italiana insegnanti geografia che ha coinvolto in quell'anno i ragazzi della scuola primaria e della secondaria primo grado quindi scuola media e quest'anno continua coinvolgendo anche i ragazzi della superiore prego questa è la copertina dell'atlante in cui sono state raccolti in i lavori prodotti questo progetto e che potete anche questo scaricare dal nostro dal nostro portale poi le attività di partecipazione e sensibilizzazione attraverso giornate di studio di approfondimento rivolte sempre a tecnici professionisti e tecnici a pubblica amministrazione andando a toccare vari temi ricordiamo nel 2018 la relazione paesaggistica poi il rapporto problematico tra paesaggio e cambiamenti climatici e nel 2020 poi c'è stato un approfondimento sul sull'attuazione della convenzione europea a vent'anni dalla sua introduzione dal 2021 quindi all'anno scorso iniziata anche un'attività con gli agricoltori l'edizione di quest'anno è stata avviata come vi diceva l'ingegnere Negri ieri in Lessigna e continuerà nel corso di questo mese del prossimo sempre in collaborazione con le associazioni giovani di confagricoltura CIA e col diretti in ricorrenza come vi avevo già accennato dei vent'anni da firma della convenzione è stato sì è stata avviata un'attività rivolta agli amministratori pubblici correvo troppo avanti stavo parlando del convegno comunque è stata realizzata questa attività con gli amministratori pubblici sindaci vice sindaci presidenti e consiglieri assessori di comuni province quest'anno l'attività si è conclusa a verona ieri pomeriggio qui sono riassunte le ulteriori altre attività si va da una mostra fotografica il convegno realizzato per i vent'anni della convenzione e poi altre attività rivolte espressamente agli osservatori locali per il paesaggio allora le attività che fin qui abbiamo descritto sono state rese possibili grazie all'organizzazione che ci siamo dati fin dal 2012 con una specifica disciplina approvata con dgr 8 e 24 del 2012 dalla giunta regionale con l'istituzione a rete nell'anno successivo a gennaio di quest'anno è stata approvata la giunta regionale una nuova disciplina un'unica disciplina che raccoglie quindi sia quella dell'osservatorio regionale che quella della rete locale quindi un unico provvedimento è raccolta sono raccolte le due discipline che prima erano distinte viene sostanzialmente confermata la struttura organizzativa dell'osservatorio che è costituita dal direttore dal coordinatore che avete conosciuto prima ingegnera giovanna negri dal comitato scientifico e dalla segreteria tecnico scientifica va evidenziato che il direttore dell'osservatorio è il direttore della direzione pianificazione territoriale mentre quello di il ruolo di coordinatore è assunto dal direttore della unità organizzativa pianificazione territoriale strategica e paesaggistica confermata anche la rappresentanza regionale universitaria e ministeriale nel comitato scientifico quindi abbiamo il direttore il coordinatore il direttore della direzione e beni e attività culturali e poi le unità organizzative che hanno competenza in materia di paesaggio confermate le rappresentanze anche universitaria del mic l'elemento di novità e non è una novità di poco conto rappresentata da un inserimento di un rappresentante degli osservatori locali per il paesaggio vorrei sottolineare che il comitato scientifico da sempre è presieduto dal direttore della direzione beni e attività culturali e sport è una scelta molto precisa che è stata fatta fin dall'inizio fin dalla nascita del dell'osservatorio e con questa si voleva sottolineare la stretto legame che lega la cultura al paesaggio allora anche la disciplina della rete regionale è stata modificata infatti è prevista una convocazione di una riunione di coordinamento almeno una volta all'anno e in in quell'occasione viene eletto il rappresentante degli osservatori locali che poi partecipano ai lavori del comitato scientifico e altra cosa altrettanto importante in quell'occasione vengono proposte le attività da svolgere per l'anno successivo quindi c'è un maggiore coinvolgimento della rete degli osservatori locali nei lavori e nelle attività dell'osservatorio regionale qui sono elencate le attività previste per l'osservatorio non sto a leggervele tutte sono evidenziate quelle che abbiamo potuto avviare o realizzare in questi anni come potete vedere ci sono delle attività molto importanti che in me sono rimaste inattuate proviamo solo a pensare al monitoraggio e altre iniziative quali recupero e riconificazione dei paesaggi e ancora la segnalazione di casi rilevanti in occasione del premio del paesaggio del consiglio europa insomma c'è una serie di attività che intendiamo avviare nei prossimi anni in questi anni abbiamo privilegiato la formazione a sensibilizzazione andando avanti dovremo sicuramente affrontare anche a maggior ragione se dovesse ripartire il piano paesaggio regionale anche tutta l'attività di monitoraggio ecco quest'anno va bene semplicemente per sottolineare il fatto che abbiamo come dire dialogato con molte realtà quest'anno abbiamo voluto espressamente avviare un dialogo anche con voi colleghi e credo che sia una scelta molto importante eh le criticità sostanzialmente che riguardano la rete eh come si vi dicevo come vi accennavo è l'inattività di una parte gli osservatori locali questo è dovuto a una serie di fattori eh teniamo presente che i nostri osservatori locali fanno sempre capo a un ente pubblico principalmente comune e capita che col cambio di amministrazione venga meno l'interesse per continuare l'attività ehm quindi questo questo è uno dei dei motivi principali per cui la i lavori vengono poi svolti a singhiozzo per cui finché c'è l'amministrazione motivata interessata a svolgere l'attività vanno avanti i lavori e poi si ferma eh un altro elemento importante da tenere presente è che va assolutamente coinvolta la realtà locale quella dell'associazionismo non sempre è stata fatta in modo così puntuale e poi non è un elemento di poco conto l'assenza per molti anni di contributi allo svolgimento delle attività questa cosa noi l'abbiamo reintrodotta dall'anno scorso eh credo sia giusto sostenere le attività degli osservatori locali ehm vediamo un po' se se questo sarà questo contribuirà al riavvio delle attività eh ecco per ultimo ma non è un problema di di eh semplicemente perché è finito alla fine dell'elenco ma è una cosa molto importante la scarsa circolazione informazioni e noi con l'attivazione del portale intendiamo assolutamente eh porre rimedio a questo problema eh ecco noi ci stiamo muovendo su più fronti come potete vedere quindi il contributo annuale agli osservatori locali come vi dicevo eh il maggior coinvolgimento nel processo decisionale come abbiamo visto con l'inserimento di un rappresentante nel comitato scientifico e la eh raccogliendo le proposte che vengono dagli osservatori eh conferma di messi di fondi messi a disposizione per ulteriori attività e poi l'attivazione del portale del 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 degli osservatori eh questo è il portale e ve ne parlerà in modo diffuso la collega Elena Finto del segretaria tecnico scientifico dell'osservatorio vi ringrazio